Ad Amalfi riparte la mobilità via mare con la storica compagnia Travelmar che con il post covid rimette in navigazione le sue bellissime navi garantendo i collegamenti da e per la costiera amalfitana. Nella sola giornata di ieri abbiamo registrato un flusso di circa 600 passeggeri tra andate e ritorno. Queste le dichiarazioni di Marcello Gambardella, CEO della Travelmar, pronti ad accogliere a braccia aperte anche i turisti. Nella sola giornata di ieri appunto abbiamo registrato un flusso di circa 600 passeggeri tra le corde di andata e corde di ritorno e quindi siamo pronti ad accompagnare in piena sicurezza i turisti. La nave garantisce il distanziamento. Nelle aree interne sono stati posizionati tutti i simboli con le rispettive segnaletiche poi igienizzanti agli ingressi e all'uscita e mascherine. Stiamo inoltre promuovendo la promozione online in costiera anche tedeschi, francesi, europei e filippini.